Al Museo del Sagno, la Libra Scuola di Filosofia del Sagno conclude il Festival di Filosofia, Sofia e i luoghi del pensiero, otto tappe attraverso la provincia di Benevento. L'incontro di oggi è su pensiero meridiano, arte, filosofia e musica, con il batterista Salvio Vassallo e la cantante Valentina Gaudini. Ma ascoltiamo il professor Amerigo Cirvo della Libra Scuola di Filosofia. Sofia, i luoghi del pensiero si congeda quest'oggi al Museo del Sagno con un gran finale. E' l'ultima tappa, come abbiamo detto, di una serie di appuntamenti che sono stati molto intensi e che hanno avuto un buon riscontro di pubblico e anche ottimi giudizi da parte di chi ha partecipato. Stasera chiudiamo in un luogo fondamentale, dove secondo il nostro percorso, il pensiero meridiano, si incontrano tutte le culture, tutte le istanze che stanno dietro a questa nostra città, a questa nostra realtà. E finiamo con una brevissima riflessione sul pensiero meridiano, a due voci, perché Gian Cristiano è ad Acqui a prendersi il suo meritato premio per il libro su croce. E chiudiamo con una performance di questi due artisti napoletani, che è una performance che nasce dalla tradizione ma che si apre poi al futuro, che è proprio in un certo senso l'aspetto che più ci ha interessato in questo percorso, quello di coniugare la filosofia con i luoghi della nostra provincia e con i luoghi che ci fanno pensare a prenderci al futuro. Infatti ognuna delle otto tappe è stata significativa? Tutte sono state significative, dalla prima di San Marco dei Cavoti, dove abbiamo posto il punto di inizio dedicando la serata, ma tutto il festival idealmente a Diodoro Cocca. Poi siamo passati a Solopaca per il principio di tutta l'acqua, poi siamo andati a Taburno, il monte tipico del Sannio, poi siamo ritornati a Benevento, ci siamo spostati a Torrecuso e abbiamo chiuso a Morcone con il paesologo che ha fatto le veci del filosofo e abbiamo scoperto che forse il paesologo e il filosofo sia la stessa cosa.